Lei è la Mercedes EQS SUV e attenzione perché è un SUV lungo 5 metri e 13 di lunghezza, a passo di oltre 3 metri, 3 metri e 10 circa, ma raggi di strazzata 11 metri, per capirci è quello di una Volkswagen T-Roc che è lunga un metro in meno. Questa è una delle, secondo me, caratteristiche più interessanti di questa macchina perché la sua grande mole poi non si traduce in una complessità di guida e di mancanza di agilità perché questa macchina qui gode di un sistema molto particolare di 4 volte sterzanti di cui mi sono veramente innamorato, ma ne parliamo tra un attimo, ne parliamo durante la guida perché adesso andiamo a vederla negli esterni, ma questa macchina mi piace molto proprio perché è quello che di fatto sarebbe una classe S, una Mercedes classe S, berlinona, in versione SUV e in versione elettrica EQS. Questo è ciò che questo SUV sta a simboleggiare all'interno della gamma Mercedes e mi piace molto perché devo dire che mi aspettavo un lennesimo SUV che vuole essere sportivo, manca zero emissioni, che vuole essere tutto e alla fine poi non riesce a essere niente, invece qui abbiamo una macchina che fa benissimo il suo lavoro e questo mi piace veramente tanto perché, ve l'ho sempre detto e ve lo ripeto, le auto oneste, cioè che hanno una filosofia progettuale e che la portano a termine rimanendo coerenti con se stesse, cioè con loro stesse, mi piace sempre e comunque qua secondo me ci siamo. La macchina in realtà la conosciamo già perché l'abbiamo già vista in altre occasioni, abbiamo come vi dicevo un SUV lungo 5,13 m di lunghezza per 1,96 m di larghezza e 1,72 m circa di altezza, quindi dimensioni piuttosto imponenti per la verità, nonostante il che del passo di 3,10 m non si traduca in una mancante leggerità proprio grazie alle quattro ruote sterzanti. Il linguaggio stilistico è quello di Mercedes EQ che abbiamo già imparato a conoscere su altri modelli, insomma il corso stilistico è quello, rimane fedele e quindi le auto rimangono riconoscibili tra di loro, ad esempio qui davanti abbiamo una calandra piena con all'interno oltre al logo gigantesco della stella tre punte della Mercedes abbiamo anche altre minuscole stelline, sempre a tre punte qui che vanno ad adornare la calandra di fatto dandole questo effetto molto particolare, forse il nero è un colore molto elegante ma un po' serioso, secondo me questa macchina qui fosse di un colore ma anche semplicemente grigio scuro o bianco quello che con la calandra che rimane sempre comunque nera fa tutto un altro effetto visivo perché fa più contrasto e sembra di più una calandra vera e quindi aiuta a mantenere un disegno più tradizionale e meno difficile da digerire, con insieme questi fari molto da un lato appuntiti sì ma per la verità ben integrati all'interno della linea sono abbastanza arrotondati nel complesso con all'interno questi due principali gruppi ottici naturalmente digital, matrix led quindi di ultimissima generazione uniti da questa linea centrale che fa un faro cost to cost. Il frontale è ricco di superfici aerodinamiche che migliorano proprio il coefficiente di penetrazione dell'area della macchina, sappiamo tutti che Mercedes è molto attenta sotto questo punto di vista e qui abbiamo infatti delle feritoie che buttano direttamente sulle ruote per migliorare appunto l'aerodinamica del veicolo lasciando l'apertura soltanto qui sotto eventualmente per andare a rinfrescare le poche componenti di cui è dotata un'auto elettrica o ad esempio per il climatizzatore eccetera eccetera quindi abbiamo la minor possibile superficie frontale per di aperture frontali scusate per andare a migliorare quello che può essere il coefficiente di penetrazione dell'aria e quindi migliorare quello che di fatto sono i consumi e quindi di conseguenza l'autonomia della macchina. Andiamo sul fianco invece notiamo sicuramente apprezziamo innanzitutto il passo molto allungato vi dicevo di oltre 3 metri di lunghezza così come possiamo apprezzare anche i cerchioni che sono di grandi dimensioni anche se non sembra nel senso che sono dei 22 pollici siamo no 21 pollici scusate 21 pollici con una dimensione delle gomme però di 275 spalla 45 r21 il motivo per cui dico che sembrano piccole è proprio perché le gomme sono dotate di tanta spalla qui sopra e quindi di conseguenza abbiamo un cerchio che secondo me riempie bene il passa ruota proprio perché si è di grandi dimensioni perché è un 21 però i SUV secondo me stanno molto meglio con la gomma con tanta spalla e questo sinceramente mi piace moltissimo passiamo invece al posteriore considerate che anche qui come vi dicevo vale lo stesso discorso dell'anteriore cioè il corso stilistico quello che già conosciamo delle mercedes elettriche quindi abbiamo questo faro abbastanza arrotondato nelle forme non troppo frastagliato o seghettato vedete che procede poi anche sulla fiancata per impreziosire quello che può essere il design laterale ma si unisce anche in questo effetto cost to cost lungo il bagagliaio per dare questo effetto di faro unico a fascia unica all'interno la trama è molto molto elegante vedete che abbiamo questi listelli obliqui all'interno che fanno un effetto tridimensionale al faro gli permettono anche di fare qualche giochetto di luce all'accensione allo spegnimento che di giorno non si vede ma che effettivamente ci sono ecco che abbiamo un posteriore che rimane secondo me particolarmente interessante perché riesce a rendersi futuristico e differente da quelle che possono essere le mercedes normali a benzina ma con comunque un complesso diciamo un design complessivo che non fa storciare il naso perché alla fine rimane abbastanza tradizionale quindi secondo me questo può funzionare andiamo a vedere il bagagliaio e vedete che si può anche aprire direttamente passando il piede sotto al veicolo e all'interno apprezziamo sicuramente il tantissimo spazio a disposizione questa è una versione a sette posti quindi abbiamo un pelino di capacità in meno rispetto al cinque posti eventualmente perché qui abbiamo 540 litri di capacità massima mentre invece sul cinque posti avremo invece un centri di litri in più saremo sui 650 litri mentre invece abbiamo oltre 2000 litri di capacità se andiamo a ripiegare anche la seconda fila di sedili sdoppiati peraltro in configurazione 40 20 40 per quanto riguarda l'interno sicuramente non c'entra dire nel senso che ci può regolare tutto direttamente elettricamente vedete qui abbiamo a disposizione i comandi per andare a muovere i sedili davanti vedete che posso far scorrere il divanetto direttamente e poi andare a riportarlo verso l'alto sempre in automatico poi comunque se dire si può anche regolare andiamo poi regolarlo meglio direttamente da lì davanti comunque lo spazio è tantissimo abbiamo anche delle prese 12 volt qui dietro delle luci di cortesia dei ganci per eventualmente le retine dei ganci anche per la spesa qui dietro abbiamo anche naturalmente quello per tenere ferme le cinture dell'ultima fila di sedili vi dicevo qui sotto invece lo spazio per due prese usb e un portabicchieri per ciascuno dei due lati per i due passeggeri qui posteriori quindi sicuramente qui dietro c'è tantissimo di tutto veramente ci sono pure i poggiabraccio morbidi per appoggiarsi stare comodi quindi questo per darmi un'idea di quanto il lusso sia importante per mercedes all'interno della di questa macchina che di fatto è una classe s suv elettrica passiamo invece al posteriore e quindi vi faccio vedere le mani in tutta scomparsa l'avete già notate e intanto vi faccio vedere invece l'interno così capite anche qui perché parlo di enorme lusso e vedete subito qui davanti a me abbiamo uno schermo ora la macchina è spenta quindi credo che funziona perfetto qui abbiamo uno schermo di generosissime dimensioni per andare a godere di particolari funzioni utili come posso andare a impostare la navigazione posso andare a impostare praticamente tutto quello che voglio eventualmente a chi guida all'eventuale autista ecco per capirci ma posso anche andare ad ascoltare musica posso andare a guardarmi la tv posso andare a fare qualunque cosa qui dietro anche tenere conto ad esempio tenere traccia di quelli che possono essere i flussi di energia tutto quello che riguarda la macchina e tutto quello che si può fare da lì davanti che arriviamo tra un attimo posso farlo anche da qui dietro è il che è fantastico e poi naturalmente mi soffermo un attimo sulla comodità di viaggio perché qui dietro ce n'è veramente tantissima adesso io sono seduto vedete che il passo è tantissimo come dicevo e quindi abbiamo a disposizione tantissimo spazio per le ginocchia e per i piedi posso praticamente coricarmi sulla versione 5 posti in realtà si può fare ancora di più si potrebbe ancora di più stare in diciamo in orizzontale stare praticamente ancora più sdraiati ma comunque qui di spazio sicuramente non vi mancherà mai e i sedili sono molto ben imbottiti i sedili sono veramente comodi ben profilati sono anche riscaldati qui dietro si sta veramente da dio si sta anche un po' i coricatini quindi è fantastico si sta veramente di una comodità disumana la cosa mi piace veramente tantissimo qui dietro si percepisce tanto il lusso dalla cura per il posteriore vedete anche qui ad esempio che i pannelli portiera sono tutti morbidi qua sopra morbidi qui al centro un bel legno qui a coprire la parte in cui ci sono i finestrini qua un altro un altro componente direttamente morbido per comodità qui sotto sembra rigido perché effettivamente lo è ma in realtà la copertura è morbida quindi vedete la cura enorme all'interno di questa di questo pannello porta in più pezzi quindi veramente fantastico e poi anche una tasca retroschinale qui dietro per portare tutto quello che volete abbiamo anche una bocchetta del clima qui oltre che naturalmente qui al centro dove c'è ci sono due zone a sé una per lato quindi veramente qui dietro la cura è massima c'è veramente qualunque cosa molto 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 bene ottimo e poi abbiamo anche adesso vado a regolare un attimo il sedile elettricamente qui per rimetterlo in posizione corretta vedete qui come esattamente come davanti qui abbiamo quello che può sistemare la posizione di guida direttamente con questo feedback aptico perché io vado a premere lui non si muove ma comunque muove e regola senza che io vado effettivamente a muovere fisicamente il comando quindi fantastico mi siedo un attimo qui al centro ma non prima di avervi fatto vedere quello che è il bracciolo centrale perché qui abbiamo veramente di tutto abbiamo la parte di ricarica del telefono wireless abbiamo un sacco di cose qui molto comode ma soprattutto un tablet che fa da ulteriore schermo come questi qui davanti con cui si può fare praticamente tutto andare a mandare informazioni laggiù davanti quindi fantastico ragazzi c'è veramente qualunque cosa qui dentro quindi veramente molto molto bene e naturalmente anche la seduta non è malvagia ovvio che si sta seduti più comodi sui fianchi ovvio inutile che andiamo a parlarne di questo mi pare abbastanza giusto che è una macchina fatta per stare più comodi in quattro che in cinque però anche qui in mezzo credetemi che non c'è alcun tipo di male perché si sta veramente molto bene c'è tanto spazio per i piedi perché naturalmente non essendoci una componente meccanica che passa qui in mezzo è tutto piatto quindi si sta veramente molto bene le guide dei sedili sono 20 cm più avanti quindi si sta veramente comodissimi tanto spazio anche per le ginocchia questa è la mia posizione di guida che sono alto circa 1,90 m quindi fate voi le considerazioni quindi ancora spazio anche per la testa non c'è assolutamente male un po' meno per le spalle naturalmente il sedile centrale è meno profilato perché è più un bracciolo che un sedile ma comunque un viaggetto si può fare senza alcun tipo di problema senza essere assolutamente sacrificati quindi ragazzi molto bene sicuramente qui dietro ci siamo all'ennesima potenza però facciamo un salto davanti così vi faccio vedere invece l'altra parte principale con un sacco di funzioni tecnologiche che è l'abitacolo anteriore e devo dire che lì rimarrete stupiti secondo me perché è veramente bello e come potete sicuramente apprezzare qui abbiamo a disposizione degli interni bianchi che secondo me fanno naturalmente avete anche già visto già dietro però comunque qui davanti fanno ancora più effetto scenico perché sembra di essere veramente all'interno di un motoscafo italiano degli anni 60 cioè non so perché mi dà questa idea mi piace veramente tantissimo e mi sa di un interno veramente molto fresco tra molte virgolette cioè nel senso di molto moderno molto elegante molto pulito gli interni bianchi sono un delirio perché poi si sporcano a guardarli naturalmente ma questo non è un problema degli interni bianchi cioè nel senso della Mercedes è un problema degli interni bianchi cioè non è che ne può nulla la Mercedes selezionati così questa è la conseguenza degli interni bianchi però guardate che contrasto fantastico tra il bianco del volante il nero qui della parte invece con tutti i pulsanti per i feedback aptici e il legno qui al centro gessato che è veramente meraviglioso veramente ragazzi mi piace tantissimo mi piace praticamente tutto è veramente meraviglioso non c'è niente da dire e soprattutto questo enorme effetto scenico causato da questi tre schermi che praticamente sono divisi certo però nella buona sostanza vederli così sembrerebbero un corpo unico e di notte fanno ancora più affetto perché questo stacco così netto non si vede non posso farvi vedere quello schermo perché lui si accende per evitare di distrarre il guidatore si accende solo quando percepisce la presenza di qualcuno sul sedile quindi non posso farvelo vedere ma tanto fa esattamente quello che fanno anche gli schermi qui dietro quindi assolutamente la stessa identica cosa una cosa però che mi piace tantissimo e questo non posso farvelo vedere perché non lo farà vedere mai nella vita perché è giorno però quando non c'è nessuno seduto e io sto guidando se vado a mettere la mano di qui perché magari voglio cercare qualcosa sul sedile perché magari mi è caduto qualcosa io non lo so qualunque cosa che possa essere lui percepisce lo spostamento della mano e va ad accendere la lampadina che illumina il sedile perché capisce che sto andando di qua perché devo cercare qualcosa ma se c'è qualcuno seduto naturalmente non lo fa questa è un'altra piccola attenzione al dettaglio che sulle classe S si vede ed è sempre una cosa meravigliosa perché rimani stupito di queste cosette che fanno poi la differenza sulla quantità assolutamente sì comunque torniamo invece a noi abbiamo questo enorme schermo qui al centro di generosissime dimensioni sviluppato principalmente in orizzontale lasciando questo angolo qui sotto visto che è di fatto un trapezo idale lasciando questa parte qui sotto ai comandi principali di climatizzazione e con il tastino home per andare a aprire le principali funzioni dell'MBUX di ultimissima generazione collegatissimo a tutto semplicissimo da usare devo dire che qualche lievissimo ritardo veramente lieve all'interno del software per quanto riguarda gli input cioè quando vado a tirare giù la tenina vedete che ci mette un attimino a capire il insomma elaborare l'input è veramente un ritardo minimo però comunque un po' si percepisce ma va bene perché comunque nel complesso tutto questo funziona veramente più che bene riaccendo la macchina perché naturalmente lei dice se sei fermo cosa mi accendi a fare che usi il clima per niente ho anche ragione però devo farlo perché se no muoio naturalmente di caldo e va benissimo però comunque torniamo a noi e qui dentro possiamo avere veramente tutto a disposizione veramente un vero e proprio cervello della macchina questo qui davanti con tutte le impostazioni possibili del caso comunque possiamo andare a lavorare su tutto quello che riguarda la parte di guida di assistenza alla guida degli ADAS ne parliamo bene durante la guida ma comunque questo è abbiamo a disposizione anche tutto quello che riguarda le assistenze varie le telecamere tutto quello che riguarda il parcheggio quindi vedete che qui all'interno possiamo veramente andare a sistemare qualunque cosa che riguarda la guida della macchina e quindi possiamo veramente personalizzarcela come vogliamo noi così come anche tutto quello che riguarda le luci ambientali quindi tutto quanto da qui si può andare a sistemare e attenzione anche da lì naturalmente perché questa parte qui comunque comprende tutte queste funzioni qui a sezione forse del navigatore ma tutto il resto c'è come mappe eccetera ma in realtà non è vero perché ci sono anche lì scherzavo lì c'è veramente tutto quanto quindi molto molto bene anche in realtà l'interfaccia di utilizzo è molto semplice perché praticamente è uno smartphone perché io tirando giù la tendina ho a disposizione tutte le cose principali delle funzioni rapide tipo ad esempio il massaggio conducente che adesso mi faccio fare perché non vedo il perché no quindi benissimo ho messo massaggio conducente fantastico qui invece scusate mi è venuto in mente di farlo vado a mettere la ventola sul sedile ma comunque qui abbiamo tutta la regolazione dei sedili vari e possiamo andare a salvarci tre impostazioni di memoria abbiamo il riscaldamento sedili la ventola sui sedili e possiamo anche andare a regolare il sedile destro con questa parte che è questo pulsantino qui è tutto aptico si preme ma in realtà non si preme è più una sensazione che altro quindi fantastico e vedete che il pannello porta è lo stesso che abbiamo visto qui dietro quindi assolutamente lo stesso cura maniacale per i dettagli fantastico tralasciando invece un attimo questa parte dello schermo che abbiamo visto e vedete che c'è veramente tutto ah mi dimenticavo certo l'impianto audio Burmester ha 18 milioni di artoparlanti e 18 miliardi di watt veramente devastante ha un impianto audio meraviglioso per capirci ho messo le canzoni che più conosco non posso mettervele perché YouTube naturalmente ci demonetizza la vita ma considerate che ho messo le canzoni che so per certo che facciano grattare anche le cuffie tutto e qui non gratta niente neanche mettendo i bassi a 10 non gratta niente tiene sempre il volume alto non gratta niente quindi veramente non distorce per niente l'audio quindi funziona veramente molto molto bene quindi sicuramente ottimo come vi dicevo qui abbiamo a disposizione tutte le parti rapide con la tendina qui sotto invece con la home possiamo andare ad accedere ad altre funzioni fra cui l'Apple CarPlay che naturalmente è senza cavo tutto quanto wireless anche qui vedete quanto è integrato benissimo ma Apple CarPlay funziona sempre bene di solito diciamo quando il software e l'hardware cioè quando l'hardware è buono il software di conseguenza dell'Apple CarPlay funziona sempre molto bene ottimo e poi abbiamo qui davanti invece lo schermo che riguarda invece il cruscotto digitale che mi piace altrettanto perché è molto chiaro molto semplice anche se digitale mantiene una forma tradizionale con gli indicatori rotondi quindi assolutamente fantastico si può personalizzare tramite i tasti touch qui sul volante che sono a sfioramento vedete che posso andare a scorrere qui al centro e posso anche andare a mettermi la navigazione qui al centro direttamente per avere tutto a disposizione navigazione che riprende anche quella selezionata su l'Apple CarPlay quindi assolutamente la massima connessione tra il sistema PolcarPlay e l'infotainment vero e proprio della macchina quindi veramente ottimo fatto molto molto bene fantastico e poi abbiamo naturalmente una serie di funzioni come i controlli degli ADAS del chilometraggio dei consumi eccetera eccetera di cui parliamo naturalmente tra un attimo dell'autonomia e via così e così facendo quindi molto molto bene per quanto riguarda il volante abbiamo questo che ho fatto già vedere tutti i comandi touch che sono a feedback aptico quindi quando premo uno si premono tutti e fa una vibrazione per far sentire di aver premuto ma funziona molto bene devo dire che non danno fastidio come comandi è difficilissimo appoggiarsi e per sbaglio premere qualcosa proprio è calibrato bene sicuramente mi piace anche la forma del volante mi piace che sia così ciccioso e così grande perché su una macchina del genere mi piace che sia bello spesso di solito li preferisco sottili ma sulle auto sportive su queste così mi piacciono i volantoni grossi e comodi si vede che è triangolato molto bene così come tutti i dettagli per quanto riguarda i materiali che sicuramente sono fatti benissimo qui sopra tutto morbido mi piace questo tipico di Mercedes questa ventola a turbo fan che sa molto di aviazione così come il fatto che anche qui sotto sia tutto morbido è tutto fatto molto bene anche qui sotto è tutto morbido 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 e mi piace veramente tanto perché è tutto fatto veramente bene qui sotto abbiamo un enorme tascone dove adesso ho messo la GoPro ma comunque un enorme tascone con varie prese anche la davanti USB di tipo C così come qui sotto che si può aprire direttamente abbiamo due prese USB di tipo C così come anche dietro ce ne sono ovunque di prese USB di tipo C però attenzione perché non c'è neanche una presa USB normale e infatti errore mio a un certo punto mi si stava scaricando il telefono e ho pensato di uccidermi perché col telefono scarico la macchina da caricare ho pensato di uccidermi un attimo poi mi sono ricordato però che per fortuna questa macchina ha un ottimo sistema tra l'altro di ricarica a induzione del telefono perché carica veramente tanto e questo mi fa molto molto piacere funziona bene quindi qui ce n'abbiamo uno qui c'è il posizionamento per scusate c'è della cartaccia qui c'è il posizionamento per la chiave se si può andare a mettere qui quindi perfetto qui abbiamo il portabicchieri con un sistema che mi piace nel senso che sa di lussuoso anche se di fatto sono una cavolatina però funziona bene quando si va a mettere qualcosa sopra lui si gira e tiene chiuso quindi con l'apertura regolabile molto molto bene mi piace e qui dietro invece abbiamo tutti i comandi invece sempre touch fra cui anche l'impronta digitale per salvarsi il profilo accedere direttamente così con quattro frecce con le modalità di guida con l'apertura del sistema parcheggio con telecamere eccetera modalità di guida e ve l'ho già detto bla 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 l'accensione e spegnimento volume eccetera eccetera tutto quanto qui sotto un grossissimo vano porta oggetti quindi molto molto bene tra l'altro qui sotto con un'altra carica a induzione per il telefono e altre due prese usb di tipo c quindi praticamente qua si possono caricare i telefoni di tutti anche quando ognuno ne ha due cioè veramente si può caricare qualunque cosa qui dentro quindi molto molto bene se vogliamo proprio essere pistini pistini penso sia soltanto una caratteristica di questo esemplare qui magari un difetto di fabbrica di questo esemplare in particolare ma quando lascio questo sportellino aperto in questo modo portellino che tra l'altro ha un'ottima chiusura molto morbida un bel feeling è fatto bene sa veramente di bello però quando va avanti ogni tanto scricchiola quando è aperto così però penso che sia più una questione di questo esemplare in particolare che non della macchina in sé quindi prendiamola con le pinze questa cosa che vi ho appena detto perché per il resto invece ci siamo assolutamente per questa macchina come dicevo è piena di funzioni piena di tecnologie è piena di tutto ed è meravigliosa e sicuramente l'effetto scenico che ti sa garantire la Mercedes su auto elettriche in generale su quelle che godono di questa plancia fatta così è praticamente impossibile trovarne le concorrenti perché solitamente si punta al minimalismo che per carità mi piace funziona ed è sempre molto figo però una plancia fatta così che unisce tutti gli schermi continua a funzionare allo stesso modo delle minimaliste cioè con lo schermo che al centro gestisce tutto però non ti fa lo stesso effetto scenico questo qui invece veramente ti fa sembrare di entrare nel futuro e soprattutto di notte di notte veramente sembra di entrare nel 2077 c'è proprio un altro affare meraviglioso una macchina che sicuramente saprà stupire alla vista agli occhi a tutto chiunque ci salirà sopra dirà wow eccoci nel futuro quindi fantastico però tralasciamo un attimo la questione estetica e la questione interni e parliamo un po' di come va su strada quindi facciamoci un bel giro così vi spiego come va eccoci allora il volante della Mercedes EQS SUV e ho deciso di provarla non nelle strade che vi ho già fatto vedere altre volte nelle prove qui vicino alla mia città ma di andare verso la città vera e propria anziché stare nelle stradine più esterne per divertirsi un po' perché una macchina del genere tralasciando il fatto che non abbia velleità sportive di qualche tipo perché comunque è una classe S è una classe S SUV elettrico ma è una EQS quindi punta tutto sulla comodità del viaggio sulla comodità dei passeggeri il comfort di bordo le dotazioni tecnologiche la sicurezza quindi lo sportivo è diventare relativo ma comunque ne parliamo tra un attimo perché giustamente uno pensa sulle strade in esterurbane in autostrada un'auto del genere lunga 5 metri e 12 e passa forse anche è ovvio che sia molto morbida molto comoda invece immaginatevi un'auto lunga così in città come deve essere ebbene se vi immaginate qualcosa probabilmente vi state sbagliando perché questa macchina è molto molto più agile di quanto possa sembrare il motivo principale è grazie alle quattro ruote sterzanti perché oltre al classico sterzo sulle ruote anteriori la macchina le QS così come ad esempio anche la classe S e in generale quelle del segmento S della Mercedes gode del sistema quattro ruote sterzanti con un angolo di sterzo posteriore che può arrivare fino a 5 gradi in realtà l'hardware dovrebbe permettere di andare anche a 10 gradi e 15 gradi quindi in realtà l'hardware di bordo permetterebbe angoli ben superiori per la verità però diciamo che lo teniamo anche solo a 5 gradi o 10 gradi e comunque questa macchina qui veramente sembra di avere un passo di un metro più corto non sembra di avere 3 metri e 12 passa di passo sembra di avere una macchina lunga 4 metri perché si entra in parcheggi veramente inaspettati e veramente veramente inaspettati e anche in generale nelle manovre nelle vie più strette siccome il comportamento di un'auto che abbia quattro ruote sterzanti porta il posteriore a non tagliare la curva immaginatevi quando girate che l'anteriore gira e il posteriore quindi taglia leggermente la curva e più l'auto lunga di passo e più il taglio della curva è accentuato su quest'auto invece avendo le quattro ruote sterzanti con le posteriori che girano in controfase permette di allargare la curva col posteriore e quindi di conseguenza si riduce quell'effetto taglio di curva che semplifica enormemente la vita nelle cure più strette all'interno delle città e infatti sembra veramente di guidare una macchina che è veramente più piccola rispetto alle dimensioni effettive di che si porta dietro e devo dire che questo mi piace molto perché veramente ti rilassa quando uno sale al volante di un vestione del genere dice però appena mi trovo in una via un po' più stretta adesso io abito in una città piccola ma immaginatevi di essere in città come Roma come Milano o come Torino in generale così immaginatevi l'ansia che può venirvi a dire adesso girare nelle vie strette diventerò pazzo e invece e invece ci si trova una macchina capace di reagire con molta facilità e mettere subito a proprio agio chi guida proprio grazie a questo sistema delle quattro ruote sterzanti che veramente fa un'enorme differenza nei parcheggi nelle vie strette in tutto e questo mi piace veramente tanto vi do invece adesso un po' di dati tecnici considerate che i due motori perché naturalmente questa è una 450 plus con doppio motore per trazione integrale sono due motori sincroni a magneti permanenti sigla inglese PSM così per dire capaci di esprimere una potenza di picco massima pari a 265 kilowatt che tradotto in cavalli sono 360 un pelo abbondante ma 360 cavalli la coppia invece è 568 newton per metro quindi niente male e permettono alla EQS 450 plus di raggiungere lo 0-100 in 6,7 secondi che è un dato onesto nel senso che questa macchina come vi dicevo non nasce per essere sportiva quindi di conseguenza uno non si aspetta che questa macchina debba esradicare le accelerazioni e veramente segnare i tempi sul record proprio di brutto no è una classe S non scende a queste cose volgari è una classe S e quindi rimaniamo sulla classe sul lusso sull'eleganza che punta tutto sul comfort e non sulle prestazioni quindi le prestazioni ci sono perché è una Mercedes-Benz ed è un top di gamma delle Mercedes-Benz quindi è importante che le prestazioni ci siano però non sono la cosa più importante di tutte perciò non è questo che interessa e mi ricollego quindi alla questione del comfort di bordo grazie alle 4 rotte sterzanti è proprio perché di nuovo siccome il comfort e la serenità di guida e anche da passeggero è il punto focale di queste macchine ecco quindi che le 4 rotte sterzanti danno una mano proprio in questo senso quindi vedete che tutto si ricollega parliamo quindi ora di assetto visto che sta arrivando un dosso notoriamente molto alto tra noi di questa città e vi dico subito che appena salite su questa macchina prenderete conto di essere su un materasso con le ruote perché veramente la sua enorme capacità di assorbire l'asperità di qualunque tipo sulla strada di qualunque tipo veramente qualunque in abitacolo non arriva niente niente è allucinante quanto sia in grado di fermare tutta l'asperità della strada e farle sparire proprio non te ne accorgi nemmeno passi sui dossi con cui su cui con auto normali comunque lo percepisci un po' e con questa non senti niente senti solo lo spostamento della vettura ma nessun tonfo né niente merito anche di sedili che sono profilati veramente bene ci sono sedili fatti alla perfezione sono anche ben regolabili ti puoi stringere di più le parti centrali lombari ti puoi mettere il massaggio ti puoi mettere quello che vuoi sono ventilati sono riscaldati sono tutto questi sedili sono tutto quello che può venire in mente c'è tutto ma anche il fatto che sono molto morbidi e questo insieme a delle gomme con 22 pollici di cerchio ma comunque con una spalla bella presente perché la spalla è molto molto grande su questi pneumatici e tutto insieme oltre all'assetto delle sospensioni ad aria che davanti sono multilink a 4 bracci e dietro sono multilink a 5 bracci ma comunque sempre ad aria con sospensioni ad aria tutto questo insieme questo ambaradan permette veramente di assorbire l'asperità di qualunque tipo in qualunque situazione e viaggiare nel comfort più totale e la cosa che mi è piaciuta anche tantissimo è il fatto che questo però non si traduce in un'instabilità della marcia perché mentre io sto viaggiando non mi sento poi magari facendo una curvetta per ottenere due soddisfazioni non solo ad ammettere la modalità di guida più sportiva così per divertirmi un po' non mi trovo ad avere una macchina che poi risulta essere troppo morbida troppo ballerina troppo ondeggiante quindi non so dove andare non so come andare assolutamente no questa macchina permette veramente di assorbire bene le buche pur mantenendo stabile la macchina e garantendo anche una certa dose di sicurezza pur sapendo che comunque ci portiamo dietro 2,7 tonnellate di peso che sono tante non per un'auto elettrica di queste dimensioni però in assoluto sono tante e comunque queste sospensioni sono perfettamente in grado di gestirle tenerle a bada e mantenere comunque una certa dose di stabilità in qualunque situazione poi si possono modificare si può andare in modalità sport e quindi naturalmente le sospensioni si rigidiscono non sono mai troppo rigide però comunque si rigidiscono per dare più stabilità e divertirsi un po' ma anche se ci si trova in una situazione di emergenza in cui si richiede una sterzata più rapida per andare a evitare un ostacolo o quello che può essere comunque anche in modalità comfort oltre al fatto che la macchina è attiva quindi elettricamente molto attenta perciò può aggiustare il tiro in ogni momento in ogni secondo analizza tutto e bla bla ma anche così non fosse comunque questa macchina ha le sospensioni che sono veramente in grado di tenere a bada tutto questo peso senza nessun problema quindi assolutamente molto bene anche sotto questo punto di vista prima magari avete anche notato che sono passato in una via molto stretta molto molto stretta perché le persone parcheggiano su entrambi i lati della strada quando bisognerebbe parcheggiare solo su uno ottimo però questo mi permette di ricollegarmi alla interessantissima capacità di questa macchina di farti percepire gli ingombri è una cosa che mi piace molto perché non me lo aspettavo sinceramente perché i subboni grossi così in genere fatichia a capire dove stai mettendo le ruote e invece questa macchina complice del fatto che un po' di cofano si intravede e che bene o male c'è tanto spazio dentro e capisci più o meno dove finisce questa macchina veramente ti aiuta a sentirti abbastanza a tuo agio anche in vie più strette complice anche le quattro rotte sterzanti naturalmente che danno una grossa mano a uscire dagli incroci più stretti ma anche nelle vie con troppe macchine o comunque con poco spazio per la carreggiata comunque non preoccupatevi perché bene o male pur tenendo a mente che abbiamo una macchina larga perché comunque siamo su due metri di macchina di larghezza comunque riuscirete a capire bene dove riuscirete a passare dove no tempo due guide e vi sarete abituati quindi anche qua non male parliamo allora invece un attimo di viaggi autostradali visto che non sono in questo momento in autostrada ma ho fatto un viaggio da Milano verso la mia città e lo farò anche di ritorno quindi considerate che saranno circa 250 di chilometri in autostrada e vi dico subito che questa macchina è veramente una goduria per viaggiare in autostrada perché che succede? che tutto quello di cui vi ho parlato adesso dell'agilità e del comfort come prima cosa in assoluto eccetera eccetera naturalmente raggiunge la sua apoteosi proprio nei viaggi autostradali dove questa macchina ti coccola per tutto il tempo si guida molto facilmente ottima visibilità il sedile profilato benissimo la triangolazione della seduta proprio è perfetta praticamente secondo me è perfetta poi uno può avere preferenze naturalmente quindi magari qualcun altro poteva trovarsi ad avere le gambe troppo allungate ma per quanto mi riguarda personalmente è fatta veramente benissimo e quindi stai veramente molto rilassato il sedile si può regolare in tante di quelle direzioni che c'è da avere paura veramente ce ne sono tantissime quindi trovarsi la posizione di guida è facilissimo e la cosa positiva è che quindi in autostrada non ci si stanca praticamente mai si mette un massaggio alla schiena è perfetto e questo anche perché e mi ricollego agli ADAS perché la guida autonoma è di altissimo livello siamo sul livello 2 perché per legge siamo sul livello 2 e va bene però questa macchina gode già di hardware capaci di sostenere il livello 3 la differenza la ripeto al volissimo il livello 2 non è in grado in nessun momento di guidare da solo non è autorizzato a prendersi la responsabilità di guidare in autonomia col conducente che possa distrarsi mentre invece il livello 3 permette in determinati tratti solitamente autostradali e ben delineati dalle corsie eccetera eccetera con particolari condizioni permette al conducente di distrarsi quindi deve essere comunque pronto a reagire eventualmente ma permette al conducente di prendere il telefono e distrarsi per dire questo è il livello 3 e questa macchina ha già tutti gli hardware di bordo necessari perché possa avere il livello 3 infatti in Germania sta facendo dei test adesso in questo periodo liberando in certi tratto autostradali dell'autoban proprio le Mercedes come questa in livello 3 senza ulteriori aggiornamenti lato hardware si tratta di cose software ma non hardware e questo si percepisce tutto perché nel livello 2 siamo ad altissimo livello gli ADAS funzionano tutti bene sono ben regolabili sono molto intelligenti sono collegati alla navigazione quindi riescono a capire tutto per farci capire c'è corriscontro adattivo e mantenetore della corsia ovvio poi abbiamo anche l'aiuto con il cambio automatico della corsia quindi se io metto la freccia in autostrada lei da sola può effettuare il cambio della corsia molto bene ma per darvi un'altra idea se io sono con il cruise control con rigenerazione automatica ne parliamo tra un attimo della rigenerazione con rigenerazione automatica dell'energia e sto andando a 70 all'ora con il cruise control senza una meta impostata sul navigatore se io decido di mettere la freccia perché devo girare da qualche parte la macchina capisce dove che io voglio andare a girare e da sola rallenta per mettermi in velocità tale da poter fare quella curva e per mettermi in questo ingresso e quindi questo per farvi capire quanto questa macchina sia tecnologicamente molto molto avanti parliamo un attimo invece della rigenerazione così ci ricolleghiamo anche alla batteria considerate che naturalmente abbiamo a disposizione questi paddle dietro al volante che ci permettono di andare a selezionare vari tipi vari livelli diversi di rigenerazione dell'energia abbiamo un livello normale il D classico che rigenera secondo me una percentuale pari al 15% diciamo della potenzialità massima che va bene in praticamente qualunque situazione volendo possiamo andare invece a premere il tasto meno quindi come se scalassimo marcia e quindi aumentassimo il freno motore perciò aumentando la rigenerazione si rigenerà molto di più si rigenerà in automatico oltre il 60% della potenzialità effettiva della rigenerazione dei motori mentre invece possiamo invece da D passare a di più dove invece la rigenerazione diventa totalmente nulla quindi la macchina scorre come se fosse in folle e devo dire che è molto molto buono perché veramente si veleggia con una facilità disarmante veramente non si percepisce praticamente alcun tipo di attrito la macchina non sembra neanche voler rallentare in piano potrebbe andare in eterno praticamente per inerzia quindi molto molto bene e poi abbiamo un ultimo livello che apprezzo tanto e che pensavo di non fidarmi e invece mi sono sempre fidato più facilmente e mi sta piacendo molto che è quello che uso più spesso e cioè la versione auto cioè automatica che succede che la macchina capisce da solo in base al limite di velocità in base al traffico che precede in base alla conformazione del terreno in base alla meta impostata dal navigatore in base se io metto la famosa freccia per prendere un incrocio all'ultimo secondo la macchina capisce da sola quanto rigenerare e quindi quanto andare a inficiare sul freno e sulla rigenerazione della macchina quindi magari davanti c'è uno che va più piano di noi quindi ci avviciniamo pian pianino si rigenera un po' di più per raggiungere la stessa velocità e poi si mette in folle quindi rigenerazione del tot allosso per mantenere la velocità oppure sto andando a 70 all'ora metto la freccia e lui rigenera di più perché vuole farmi rallentare per poter prendere quell'uscita capito questa è la tecnologia della rigenerazione che mi piace veramente moltissimo mi è piaciuto invece un po' meno e questo se vogliamo è l'unica cosa mi rendo conto che è poco però penso sia l'unica cosa che veramente non mi ha convinto del tutto che è il pedale del freno perché bisogna prenderci tanto la mano nel senso che bisogna andare a premere tanto in fondo il pedale quando si vuole andare a frenare perché c'è uno stacco un po' un po' percepibile tra la rigenerazione e l'intervento di freni meccanici veri e propri e il pedale risulta un pochino spugnoso ma soprattutto nella prima zona è molto molto poco sensibile insomma si deve premere molto a fondo per andare a sentire qualcosa questo l'ho già sentito anche su altre Mercedes elettriche ad esempio non so per dire l'EQV fa una cosa molto simile e la taratura qui è abbastanza simile in realtà quindi bisogna prenderci un po' la mano solo che le prime volte ci si spaventa perché non ci si aspetta che tutta quella corsa di pedale iniziale non faccia granché bisogna solo prenderci la mano questo però cambia se si va a modificare invece il rigen perché la conseguenza è che poi da solo lui va a premere già quella parte di pedale e quindi si ha poi subito il pedale rigido per andare a frenare veramente perciò è un difetto una calibratura che avrei fatto in modo diverso forse però comunque diciamo che è l'unica cosa un po' negativa che percepisco in questa macchina perché per il resto secondo me ci siamo è una macchina che fa veramente bene il suo dovere è confortevole è molto fedele a se stessa la sua filosofia e mi piace veramente tanto devo dire veramente tanto ultimo discorso così poi ci ricolleghiamo alle conclusioni parliamo dell'autonomia allora questa macchina qui lasciamo perdere i dati dichiarati per farci capire mi piace molto il fatto che quando io vado a selezionare vado a ricaricare la macchina arrivo all'85% per dire stacco dalla corrente e la macchina mi dice un'autonomia dichiarata che quando siamo all'85% in base al mio studio di guida in base a tutto quanto dichiara circa 410-415 km all'85% che è una percentuale classica per chi viaggia senza andare a considerare il 100 che tanto non lo fa quasi mai nessuno 410-415 km dichiarati e la cosa che mi piace molto è che sono veri perché quando fai un chilometro perdi un chilometro e ne ho viste poche di auto così oneste e sincere così precise nel calibrare il consumo di chilometri dell'autonomia in base al tuo modo di guidare perché effettivamente questa macchina quando tu le dici io devo fare 400 km lei te ne segna 450 tu ne farei 450 e non mettendo in eco lasciando in comfort col clima a 22 gradi in automatico senza alcun tipo di strano aggeggio aggiuntivo ma neanche senza privarsi di chissà che cosa cioè nel senso guidando in modo assolutamente normale senza farsi il problema guidando come se fosse su un'auto a benzina per capirci proprio e questo mi piace molto così come mi piace il fatto che la macchina vada a dirti in questa schermata qui davanti sullo schermo dell'infotemme dell'incroscotto digitale una stima di autonomia realistica un'autonomia minima dichiarata garantita nel caso anche se mettessimo in modalità sport e se andasse sempre premendo tutto sempre garantita oppure una massima in caso di modalità eco facendo attenzione spegnendo il clima diciamo un range in cui potrà seleziona quella realistica e in questo caso per capirci io ho il 45% con il clima acceso a 20 gradi e la modalità comfort lei dice che potrei fare circa 219 km sapendo però che il minimo garantito è 145 quelli li faccio comunque vada e invece se sono veramente bravo faccio il 264 quindi mi piace questa cosa è molto sincera molto bene ma parliamo un attimo invece della ricarica la ricarica però ve ne parlo alla colonnina perché secondo me è più importante così quindi scendiamo parliamo della ricarica e facciamo due conclusioni allora mi sono fermato a ricaricare come vi dicevo così vi racconto un attimo la questione batteria ricarica autonomia eccetera eccetera e consumi allora questa macchina ha una batteria molto grande parliamo di circa 108 kilowattora di capacità 108,4 per la precisione quindi bella corposa e anche bella pesante ma bella corposa e abbiamo una capacità di ricaricare in corrente alternata standard a 11 kilowatt e invece come optional si può arrivare a 22 in questo caso ad esempio su questo esemplare qui non c'è l'optional del 22 ma va bene così insomma tanto sto ricaricando la fasta in questo momento quindi ok mentre invece in ricarica rapida può arrivare a un picco massimo di 200 kilowatt che permettono a questa macchina di ricaricarsi dal 20 all'80% in circa 30 minuti nella buona sostanza ovvero anche se volete fare un altro un altro metodo per capire ogni 15 minuti di ricarica in corrente continua si può arrivare fino a un massimo di 250 chilometri di autonomia questo perché l'autonomia massima dichiarata nel ciclo VLTP è di 670 chilometri in realtà tenete presente che il chilometraggio dichiarato massimo è relativo vi dicevo questo discorso del max e del realistico che te lo segnala anche lei in realtà considerate che in una guida normale con il 100% della ricarica probabilmente farete circa 550 600 chilometri che comunque però non sono male per una macchina così grande così pesante e questo è anche merito di delle speciali celle della batteria che vengono non prodotte da Mercedes ma poi Mercedes le seleziona e le va a montare in moduli e poi montare sulla macchina quindi non è propriamente lei a produrle ma va a inserirle nella macchina poi nella sua fabbrica in America e questo permette alla Mercedes di rendere l'efficienza delle batterie superiore rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare e questo infatti consente da un lato consumi che non sono male perché allora siamo su circa 22-23 kilowatt ore ogni 100 chilometri che uno potrebbe dire ma quando superi il 20 di solito non è poco vero però in realtà considerate che questa macchina vi ripeto ha una batteria da 100 e passa kilowattora pesa una cifra è lunga 5 metri quasi 20 non è proprio un peso piuma non è proprio una macchina leggera non è neanche una macchina proprio con poca superficie frontale cioè nel senso ci sono tanti fattori che giocano a suo sfavore sul punto dei consumi e invece nonostante questa macchina mantiene sempre un consumo intorno ai 22 kilowatt ore su 100 chilometri in qualunque situazione in autostrada si va da 130 fissi modalità comfort quindi lasciando che il cruise faccia tutto da solo considerate che arriviamo a un consumo che sta sempre sui 23-23 e mezzo kilowattora su 100 chilometri ma comunque la media sta su 22-23 che non è male vi ripeto per una macchina così grande così pesante e così imponente nonostante abbia questa batteria gigantesca quindi secondo me qui ci siamo ma un altro interessante punto di questa macchina è che sempre il discorso delle batterie selezionate e montate poi direttamente da Mercedes la loro capacità che mi piace di più in realtà diciamo la loro caratteristica che più mi piace è il fatto che anche quando si raggiunge in ricarica fast una percentuale elevata ci arriviamo intorno al 70-80% della ricarica comunque si riesce a mantenere una velocità di ricarica non male ve lo faccio vedere alla colonnina lo state vedendo in questo momento che anche quando si sta si sta dando una corrente alta nonostante la batteria sia già abbastanza pienotta ecco comunque la carica continua a essere a una certa velocità e questo riduce sensibilmente i tempi di ricarica in corrente fast non solo però anche soprattutto in corrente fast cose che ad esempio per darvi un'idea Tesla soprattutto nei primi esemplari ma anche adesso in realtà in generale non riesce a fare nel senso che quando si raggiunge il 70-80% poi la velocità di ricarica comincia a scendere vertiginosamente mentre invece qui riesce a rimanere comunque a un ottimo livello e quindi questo molto bene ultimo capitolo per quanto riguarda invece la questione prezzi considerate che per una EQS formatica come questa si parte da un listino di 140.000 euro circa macchina su strada poi ovviamente si possono aggiungere cose si possono aggiungere optional si possono aggiungere tante cose che possono magari andare a personalizzare la macchina più che a riempirla perché poi c'è ben poco da aggiungere l'EQS è già molto ricca in termini di allestimento quindi molto bene però sapete che siamo intorno ai 140.000 euro per la 450 che allora può essere tanto ma in realtà no perché per un segmento del genere non è tanto assolutamente no ma anche se pensiamo all'elettrico in realtà non è così tanto perché la sua diretta controparte termica la Mercedes GLS in realtà parte da circa 104-105.000 euro voi giustamente direte ma 35.000 euro in più solo perché elettrica sono tanti parte il fatto che in realtà non è solo perché elettrica quindi va bene lasciamo perdere un attimo però anche fosse comunque considerando che viene messa una batteria da 108 kilowattora la sotto e tutta questa tecnologia di bordo 35.000 euro in più e quindi stare sotto la soglia dei 150 in realtà non è male poteva andare molto peggio quando si parla di elettriche invece sappiamo anche da altre macchine ma e le QS non fa eccessione ecco che comunque Mercedes quando fa le auto elettriche riesce comunque a mantenere un prezzo che bene o male si avvicina a quello delle controparti termiche quando ci sono queste possibilità di andare a fare paragoni diretti quindi insomma questo era un po' quello che è la Mercedes EQS SUV in questo caso naturalmente c'è anche la versione berlina ma questo in particolare è la SUV Sport Utility Vehicle e quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della Mercedes EQS SUV se secondo voi può essere effettivamente una vera e propria concorrente della GLS nonostante siano così strettamente imparentate nel senso di posizionamento in gamma se effettivamente la EQS riuscirà al di fuori del discorso che naturalmente dal 35 dovranno farlo comunque se effettivamente con l'arrivo della tecnologia in generale una macchina del genere che io ero abitato a pensare com'è ammiraglia a gasolio se effettivamente molto in fretta così come Mercedes si sta provando a fare riuscirà a soppiantare la sua controparte a motore termico fatemelo sapere qui sotto nei commenti noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Automoto ciao 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 ciao